Ciao, sono Djarà, sono una Certified Money Coach e lavoro con le partite IVE che vogliono migliorare il loro rapporto con i soldi. Posso essere utile a chi non guadagna bene, chi non riesce a gestire i suoi soldi, oppure alle persone che fanno tutto bene ma non riescono comunque ad essere serene. Che rapporto ho con i soldi? Allora, fare la Money Coach non vuol dire che è un rapporto perfetto con i soldi ma dopo dieci anni di lavoro assiduo mi do un bel otto. Ormai ho una buona consapevolezza di quello che provo, quello che penso e quello che faccio e soprattutto grazie alla self-compassion sono anche molto più gentile con me stessa. Ricordo benissimo la mia prima cliente e la mia prima fattura come Money Coach, è stato veramente un balsamo al cuore, il segnale che ero sulla strada giusta e che il duro lavoro stava pagando in piena pandemia tra l'altro. Sono una formica che ama spendere per le cose che sono importanti per me. Per quanto riguarda il business plan ce l'ho ovviamente però confesso che non lo monitoro e lo aggiorno, a volte me ne dimentico. Il mio rapporto con i soldi è cambiato tantissimo da quando mi sono messa in proprio, infatti è stato lavorare in proprio che mi ha spinto a lavorare sul mio rapporto con i soldi. Quindi ora non mi vergogno più a parlare di soldi, a dire i miei prezzi, a chiedere di essere pagata. Ho imparato a considerare il contesto per non darmi colpe che non sono mie, a ritrovare la calma più velocemente quando sono in ansia per i soldi e anche ad essere più gentile con me stessa. Questo è il mio terzo freelance camp, anzi sarà il mio terzo freelance camp. Ho cominciato a partecipare perché volevo conoscere altre persone e farmi conoscere. Ora veramente non vedo l'ora di partecipare a un'edizione dal vivo che è l'essenza originale del freelance camp perché per ora ho potuto partecipare solo a delle edizioni online. Per chi è al suo primo freelance camp e vuole recuperare i vecchi talk sui soldi consiglio i miei, giustamente, e poi quello di Tatiana Cazzaro che è l'ego, che non ricordo a memoria, farsi scegliere e comprare vendendo valore. E questo è un talk veramente molto importante perché per guadagnare bene bisogna avere la piena consapevolezza del valore che offriamo e poi sapere comunicare bene questo valore. La canzone che ho scelto per descrivere il mio rapporto con i soldi è I am where I am di Gloria Genor perché è molto importante accettarci per come siamo, anche se vogliamo cambiare. Però comunque io sono fiera della strada che ho fatta, di dove sono ora e I am where I am.